Il primo tempo Atletico Madrid contro l'Eister, il risultato di 2 a 1 per l'Atletico Madrid Andiamo ad intervistare Sayano, Torelli 2 a 1 per gli avversari, state giovando molto bene, cosa si deve fare nel secondo tempo? No, che dobbiamo giocare Che non abbiamo giocare il primo tempo Va bene, grazie, bocca a lui Andiamo da... Rocco, per l'Atletico Madrid Rocco, 2 a 1 per voi, giocate bene, partita sentita, cosa si deve fare? Bisogna giocare fino all'ultimo minuto, è una partita durissima Ambe le squadre sono tecnicamente valide, è una partita molto maschia Va benissimo, grazie, bocca al lupo, ci vediamo dopo per l'Atletico Madrid contro l'Eister Ciao ragazzi, siamo qui al termine della partita L'Eister contro l'Atletico Madrid Bellissima partita, 4 a 1 per l'Atletico Madrid Ma la, la lù! Fai un intervista, buono resto Gli andando a Sicilia house unrealistic Ma che abbiamo visto 4, beto? Partiamo da voi, se vada da partire. No, è prima di perdere. Geschi, prima di scambi. Barcelloni. Eh, ma ne chiamate. Scusa, tre anni con Madrid. State Barcelloni. Va bene, Geschi. Partita nel vuoto da Barcelloni. Ci sta la tecnica con la testa. Sì, troppo. Io non sto nella testa. A un certo punto me ne sono pure uscito. Al primo tempo potevo andare diversamente. Ci nervosi, ma manche di meno. Se non avevano i suoi. Poi al secondo tempo abbiamo tutto con me. Ma pure tranquillità. Non so fare, non so fare. Assolutamente. Chi è che... No, non vuole. Chi manca cosa sta partita. Anche la dedica, questa figura è merda. È meglio che la dedica. È meglio che la dedica. È meglio. Grazie. A Giovanni Polverino. Serio, tripletta per te. Primo punto. Stupendo. Sì, hai aiutato sicuramente la tua squadra a vincere una partita molto sentita. Bella. Sì, la partita molto sentita. Ma non dici che stronzata. Si sapeva. Sempre contro di loro le partite sono sentite. Anche se questa cosa si sentirà un po' di più. Nervosismo loro, anche a mio parere. Perché un'altra cosa ci ha fischiato, comunque ha fischiato qui lì. È inutile perdere altre volte in più. Però alla fine abbiamo portato il rischio da casa. È un piacere. 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 Comunque credono in me. Il bomber è fottissimo e merita tutta la nostra stima. Sono tuoi. Grazie. E buco al lupo. Ciao ragazzi.